Oggi tratteremo un altro stadio di amplificazione a transistor, il cosiddetto stadio push-pull. Qui le cose si fanno interessanti perché possiamo anche tirare in ballo correnti un po' più alte, quindi magari pilotare qualche piccolo altoparlante. La cosa interessante poi è combinare il tutto, vedremo anche come fare. Iniziamo a vedere di cosa si tratta e come realizzare questo stadio push-pull. Iniziamo subito. Oggi vediamo una configurazione di transistor per realizzare uno stadio di amplificazione chiamato push-pull che usa un transistor PNP e un NPN. Ci serviranno due transistor, io ho scelto un BD136 e un BD135 che sono molto comuni e diffusi. Allora il BD136 ha un case in plastica solitamente con un buchetto dietro lo spazio per una letta, ha tre piedini e la piedinatura è ECB. Quindi questo qua è di tipo PNP, quindi il simbolo è fatto in questo modo con la freccia che punta verso l'interno dell'emettitore. Poi ho scelto un NPN, l'ho preso diciamo gemello di questo. Quindi il BD136 viene accoppiato al BD135 che sono costruiti in modo molto simile, quindi garantendo una certa quasi simmetria nella costruzione dei due anche se poi ovviamente il beta che hanno è come sapete abbastanza variabile. Anche lui ha i tre piedini, è però di tipo NPN quindi classici che usiamo e ha ECB sui tre pin. Come li utilizzo? Li vado a mettere praticamente in serie, anzi vado a creare due configurazioni di emettitore comune che vado a combinare. Lo schema che realizzeremo è questo qua, quindi vado a prendere una tensione di alimentazione, vado a collegare il primo transistor che è l'NPN, eventualmente gli metto una resistenza sul emettitore, dall'altra parte vado a collegare il PNP che collego alla seconda linea di alimentazione, quindi qui ho V+, qui ho V-, V- potrebbe essere 10V, V- potrebbe essere meno 10V, quindi serve un'alimentazione duale. Qua ho l'uscita, qui vado a collegare un condensatore elettrolitico e poi per esempio un altoparlante al ground, l'altoparlante per esempio da 8 Ohm, oppure ho messo l'altoparlante ma immaginate di avere una resistenza di carico, quindi la RL. Condensatore elettrolitico con un valore abbastanza grande, per esempio ho messo un migliaio di microfarad per dar modo di far passare tanta potenza, tanta corrente. Le resistenze qua le ho scelte da 10 Ohm, poi vedremo i calcoli. Le due basi sono collegate insieme e qua poi vado ad applicare il segnale di ingresso. Quindi qui ho un condensatore elettrolitico all'ingresso e qua ho un segnale di ingresso, per esempio sinusoidale, oppure un segnale audio. Questa configurazione particolare permette di amplificare i segnali, di sfruttare una dinamica molto ampia, cioè posso avere un voltaggio del segnale di uscita che va da più 10 a meno 10, quindi ben 20V di spazio per muoversi e può fornire delle correnti interessanti per andare a pilotare, per esempio, un altoparlante. Quello che vedete qua, lo schema, è quello di un emitter follower, quindi è come se fosse un emitter follower specchiato. Questo sistema viene chiamato amplificatore in class B, perché se io non applico nessun segnale qui, non ho passaggio di correnti, quindi non consuma niente, non ho un segnale in uscita. Per far sì che il mio amplificatore inizi a produrre qualcosa, devo avere un segnale all'ingresso che sale, sale, sale e mi fa andare in polarizzazione diretta l'aggiunzione BE, per esempio, del transistor superiore, quindi lo chiamo Q1. Quando sorpasso quei 0,5V, allora inizia a condurre e arriva il segnale in uscita. Dalla parte invece inferiore ho il Q2, qua per farlo attivare devo avere un segnale negativo che scende, scende, scende quando passa meno 0,5V, inizia a farmi condurre l'aggiunzione tra base e emettitore, quindi arrivato a un certo valore, inizia a condurre, passa corrente e vado nella parte inferiore. Questo dà origine a un difetto, a una distorsione della forma del segnale in uscita. Visto che per far accendere, diciamo, il mio amplificatore devo arrivare ad attivare l'aggiunzione BE, non ho una forma di uscita perfetta, quindi sino sui dale, ma questa partirà solo a un certo punto. E quindi avrò un'operazione di clipping in cui ho un momento in cui è spento. Questo momento mi fa comodo perché non consuma corrente, però ovviamente distorce il segnale e a noi non piace. Si può risolvere questa situazione andando a fare una modifica al circuito, vedremo poi come applicarla. Vedremo nel prossimo video come fare i calcoli per farlo funzionare e metterlo su uno brand. Bene, l'argomento spero sia interessante. Come vedete si può dividere, quindi è un emitter follower specchiato. Spero che questo serva per semplificare. Vi invito a sperimentare, quindi non solo seguire la parte teorica. Come sapete di errori e di stupidate ne dico parecchi, quindi verificate anche voi e soprattutto sporcatevi le mani. Quindi prendete Nabrebo, ritransistore e provate a vedere cosa accade. Bene, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!